Sono complessivamente 3.932 i casi positivi al covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 11 nuovi casi di età compresa tra 20 e 70 anni, mentre il numero di pazienti deceduti resta fermo a quota 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.947 tra dimessi e gueriti, più 4 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 2.934 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 513 più 7 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 170.623 test. 35 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 474 più 5 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Del totale dei casi positivi 527 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila più 3 rispetto a ieri, 932 in provincia di Chieti più 3, 1718 in provincia di Pescara più 4, 723 in provincia di Teramo più 2, 31 fuori regione numero invariato e 1 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto delle verifiche sulle residenze i positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila 3, Chieti 2, Pescara 4 e Teramo 2.